Siamo alla ricerca di un famoso maestro di Qigong estremo, ci hanno detto che vive in mezzo alla boscaglia. Ecco, ecco, è lui, crediamo che sia lui, sì, è in profonda meditazione, sta assorbendo l'energia dagli alberi. Ecco, sentite questo rumore, non sta russando, è in profonda meditazione. Maestro, maestro, esca dalla meditazione, ci vuole una dimostrazione della sua forza. Ci siete voi? Noi, National Psychopathic, sono circa dieci anni che la cerchiamo, a dire il vero ci siamo persi. Però, non so quale mattina, stavo a fare un esercizio e si trattano, ero in piedi stamattina? Non so se è stamattina, guardate, si, la cognizione dell'energia, si, non ci potete, ci diamo una prova tangibile del tuo potere interno, esterno, 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 a metà tra interno e esterno, ecco, ha deciso di eliminare anche questa attrazione. Ecco che sta concentrando tutta l'energia, dove la sta concentrando l'energia? Niente, ecco. Vabbè, questa era una piccola dimostrazione. Anche lei è fatica. Può tornare in meditazione se vuole, grazie. Può tornare in meditazione se vuole, grazie a tutti. Può tornare in meditazione se vuole, grazie a tutti.